È entrato finalmente nel vivo questa mattina nelle aule del Tribunale a Rettino il processo relativo alla vicenda GeoVision che vede come protagonisti il faccendiere Flavio Carboni e Valeriano Mureddu. Il primo è accusato di riciclaggio, mentre il secondo di riciclaggio è bancarotta fraudolenta assieme ad altri dieci imputati nell'ambito del procedimento sul crack dell'azienda di imballaggi di Badia Alpino. La vicenda emerse con un'ispezione dell'Agenzia delle Entrate di Perugia che scoprì una truffa il cui perno era appunto la GeoVision coinvolta in un verticoso giro di fatture false assieme ad una società controllata denaro con il quale il gruppo si sarebbe apprestato a dare la scalata ad alcune aziende ormai decotte tra cui la retina Cantarelli e l'Arezzo Calcio. La GeoVision finì poi in fallimento e Mureddu fu arrestato per bancarotta. A seguito di questo sono venuti fuori dei capi di imputazione che riguardano una pluralità di persone per reati fallimentari e per reati fiscali, cioè una pluralità di reati. Ci sono i capi di imputazione che arrivano fino alla lettera R se non vado errato, però divisi poi non tutti gli imputati hanno gli stessi capi di imputazione. In aula questa mattina sono stati ascoltati i primi testi della Procura, i finanziari che all'epoca si occuparono delle indagini. Diciamo che ci sono state un'udienza scorsa dove sono state ammesse le prove e il processo vero e proprio entra nel vivo oggi, dove vengono sentiti alcuni testimoni del pubblico ministero. La prossima udienza è stata fissata per il 14 giugno, sarà il turno del curatore fallimentare. Entro luglio è invece prevista la fine dell'istruttoria. Il primo atto di questa lunga vicenda si era già concluso nel febbraio 2019 con due patteggiamenti di altrettanti imputati, Emiliano Cascere accusato di bancarotta e riciclaggio e Gianluca Cetoloni accusato di associazione per delinquere in concorso. Cascere ha patteggiato per due anni, quattro mesi, 4.000 euro di multa, Cetoloni un anno ed otto mesi.